Eccoli gli atleti del Città di Bagheria che non hanno sfigurato in questa Coppa Italia, a loro auguriamo un buon proseguimento di questo campionato. Capitano, è andata così, si è qualificato l'Omega Baghaladi che alla fine si è dimostrato più squadra, anche se voi comunque ve la siete giocata. Una grande squadra costruita per vincere, mi auguro che possa continuare avanti questa competizione, anche perché troverà delle squadre molto attrezzate, ma i Baghaladi non è da meno. Ecco, in bocca al lupo per la Città di Bagheria, grazie Capitano. Ecco Silvio Nicolazzo e i tifosi che festeggiano, grande festa in questi ultimi mesi per l'Omega Baghaladi San Lorenzo. Ecco il pubblico che vorremmo vedere sempre negli Stati, un pubblico giovane, civile, mai al di fuori delle righe. Eccoli qua.